ciao a tutti amici come sapete io sono mamma marzia delle sorelle pazzirelle e io marianna delle sorelle pazzirelle e desine dove sta? l'idea non c'è perché sta a scuola sta a scuola a breve uscirà e andate il papà a prenderla e come potete vedere alle nostre spalle guardate un po ci sono dei bellissimi addobbi perché domani ragazzi sabato 23 marzo sarà il compleanno di Keshire e quindi siccome verrà festeggiata la mattina il suo compleanno e quindi abbiamo già iniziato a fare qualche decorazione ve le faccio vedere allora allora iniziamo da qui qui c'è un rossetto gigante molto bello a palloncino guardate poi qui ci sta tutto il lato con il mio profumo a forma di scarpa vi ricordate il video della befana ve lo lasciamo qua per vederlo poi qui abbiamo degli smalti tutto il lato make up tutto il lato make up poi qui ci sta questo velo fantastico con scritto happy birthday e qui come potete vedere c'è scritto spa del giorno della spa perché desiree farà la sua festa tema della spa perciò abbiamo fatto tutto questo addobbo così poi qui ci sono queste bellissime decorazioni queste che abbiamo usato nel video trova le uova che vi lasciamo sempre qui poi qui ci sta un lato bellissimo con i nostri cuscini e tutti i pacchetti tutti i pacchetti che saranno dei piccoli pensierini da dare in omaggio alle sue amichette a fine festa con le band con le rosette abbiamo decorato un pochettino le scritte qua parti poi qua c'è un altro cuscino e adesso aspettiamo desiree che torna per vedere la sua reazione vediamo che reazione avrà quando vedrà tutte queste decorazioni ecco la ragazza è arrivata aspettiamo che apri la porta ecco la ragazzi ecco la apri gli occhi oh che bello bellissimo ti piace? eh? che devo fare di queste decorazioni? bellissime ah 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 ragazzi è rimasta contenta meno male vuoi vederle? eh? guarda un po' queste sono tutte per te pure tu eh si iiii questo è un fattaglio ho aiutato anche io i sette perché farai sette anni domani la bocca la bocca gigantesca la bocca gigantesca eh? eppure dobbiamo ancora finire qualcosa sì qualche decorazione anche sopra dove sa che tutto sopra poi domani mattina finiremo allora che te ne pare? bello si ma sta contenta amore meno male mi fa piacere e quindi ragazzi quindi a questo punto siete curiosi di sapere come sarà questa festa? ci vediamo domani e allora venite con noi tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri desiree tanti auguri a te auguri vai soffia la candelina auguri amore finalmente questo giorno da te tanto atteso è arrivato eh? si allora amore come ti senti? felice felice? emozionata agitata vero? si infatti vuoi dire ai tuoi amici da che ora è che stai sveglia? da che ora è che stai sveglia? eh? è dalle 6 da le 6 da circa le 6 che stai sveglia amici la sentivo non so chi era se era Marianna desiree sentivo rumori nel letto chi si alzava poi desiree si è alzata ci è venuta a dare il buongiorno non vedeva l'ora eh? e visto oggi possiamo dire che è il tuo compleanno eh? e facciamo gli auguri a desiree auguri amore mio auguri auguri immagino che non vedi l'ora che arrivino le tue mie io stamattina mi sono svegliata alle 5 e mezza addirittura 5 e mezza no vabbè però ero emozionata anch'io sei emozionata per lei vabbè poi alle festività mi fai io sempre ride solo ride solo mmm oggi questo sarà il suo riso continuo oh ma si le risate amore ok dai allora facciamo una cosa visto che fra pochissime ore arrivano le tue amiche eh mancano 3 ore e arrivano le tue amiche bussano alla porta ancora dobbiamo preparare tutto ma tappa no 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 manca poco 7 e 7 già abbiamo fatto quasi tutto anzi dopo facciamo vedere anche qualcos'altro qualche altra decorazione che abbiamo fatto nel frattempo ieri giusto? sì quindi adesso fai la tua bellissima colazione e poi forse forse iniziamo a scartare qualche regalino sì sì eh iniziamo questa splendida giornata sì e allora vai a fare colazione vai mangiati questo buonissimo bombolone con la crema che è uno dei tuoi dolci preferiti sì ehi signorina hai mangiato il bombolone hai fatto colazione? eh era buono ti sei riempita questo panciotto? e dopo allora ti mangiate i cosi che mi fai ancora di più eh sì è vero senti allora voglio andare di là che iniziamo a scartare qualche regalino sì eh adesso per adesso sono piccoli pensierini eh piccoli eh poi dopo chi sa chi sa magari arriveranno grandi chi sa andiamo voglio andare? che c'è che hai visto? eh ah la scritta che c'è scritto? eh buon compleanno desire sette anni e lì c'è il tuo pensierino oh e qui c'è un un inizio di pensierino un pisla eh che te l'ho fatto io che carino questo qua te l'ha fatto Marianna un piccolo pisla a forma di gelato perché a te i gelati quanto ti piacciono? tanto tantissimo vai vogliamo aprire? fa rumore? no che cosa c'è? vediamo oh che cosa c'è? delle ciabattine delle ciabattine? delle ciabattine delle lol visto che tu hai detto che con quelle ciabatte inizi a sentire caldo perché inizia a fare caldo eh sì poi che cosa c'è? io sono già maniche corte il profumo che cosa c'è? il profumo di frozen oh che bello Diana e facciamoci un'altra cosa e poi vediamo questa cosa se sai che cos'è? oh ho capito facciamolo vedere con questo qua che cos'è? vediamo un po' secondo te che può essere? che lo dici te Marianna che cos'è? non pulisci i pennelli eh un pulisci i pennelli perché quando tu ti farei bella che ti trucchi eh pulisci i pennelli con questo unicorno si metti un po' di sapone bagni il pennello e fai così almeno ci dai dietro io te lo do ecco io lo prendo anch'io lo prendo anch'io dell'unicorno adesso adesso che cosa facciamo? cosa? siccome manca poco eh ci andiamo a preparare che dobbiamo togliere tutte queste treccioline che è piena di trecce ragazzi guardate un po' dobbiamo togliere tutte queste treccioline io sono due per caso dobbiamo fare tutti questi boccoli ai capelli dobbiamo metterci eh che ti devi mettere? il vestito mio preferito il tuo vestito preferito dopo glielo facciamo vedere ma vuoi andarti a preparare? eh vogliamo andare? si dai corri in bagno a vestirti vai eccoci qua amici siamo pronti per levare tutte queste treccioline vediamo l'effetto finale come sarà secondo te Desi per me sarai un mini leoncino eh sì eh è vero? oh ma lo sai che sono le otto e quarantacinque? eh fra circa un'ora arriveranno le tue amiche eh come vuole il tempo ci dobbiamo sbrigare Opie mi devo vestire pure io ancora pure io ci spingiamo ancora ecco i primi i broccoletti i primi i broccoletti guardate un po' oh mamma guarda come sono alti ah mi sa che era meglio scioglierli ieri eh te sì così si si ammusciavano un pochetto eh senti un po' dai parliamo un po' con i nostri amici eh che vuoi dire di questa festa? gli vuoi raccontare qualcosa? prima ho visto delle ho visto delle cose bellissime eh ho visto delle cose super belle ti regalificati ma hai visto solo le scatole? eh ah non è che sei andato a spirciare? no eh sei sicura? mmm facciamo vedere è stato un po' che carina ah ma guarda come rimangono nooo sono un po' finissimi mancano le ultime le ultime un po' sono ancora sì rimangono di qua ce ne mancano una due tre quattro e cinque cinque e abbiamo finito sarò tutta boccolosa oggi ragazzi siamo all'ultima treccia e guardate che bello e un gino che sta uscendo fuori ahahah oh smontiamo l'ultima treccia e abbiamo finito oh 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 ecco e voilà ahahah leoncino detè facciamo vedere bene come sono questi capelli eccoli qua guardate un po' oh però sono venuti boccolosissimi eh detè sì caspita bellissimi dopo però gli diamo un po' una affonata questi capelli eh altrimenti rimangono tutti così alzati poi da un bel fiocco poi sono capelli pazzi sì è vero e che ci manca il vestito andiamo a mettere il vestito eh vai corri corri vai a prendere quel vestito bellissimo lo facciamo vedere anche i nostri amici oh qui abbiamo anche Marianna ciao ti sei preparata mamma che sei bella mi devo solo togliere le trecce bella e mettere tutti i cellulini in casa bellissima adesso noi ci andiamo a mettere il vestito bellissimo della festa andiamo desi sì andiamo facciamo vedere il vestito sì eh vai valla a prendere eccolo ragazzi questo sarà il vestito che detè si mette per il suo compleanno guardate quanto è bello con gli unicorni con gli unicorni ma questo vestito ve lo ricordate ragazzi quando l'ha acquistato desiree glielo vuoi dire ai nostri amici te lo ricordi desi anche col fiocco sì anche col fiocchetto abbinato al vestito eh in quale video le abbiamo acquistato questo vestito se indomini il prezzo te lo compro bravissima ve lo mettiamo qui sopra ragazzi se volete vederlo lo prendo eh sì lo vogliamo far vedere indossato questo bellissimo vestito eh sì tieni prendilo vogliamo fare la magia sì sei pronta pronti vai valla amore ma stai bellissima sei bellissima stai bellissimo guardate un po' amici quanto è bella oh ma manca qualcosa lì qui siamo a piedi nudi ah le scarpe te le sei dimenticate e allora le dobbiamo mettere dai mettiti le scarpette guardate anche le scarpette come sono carine ragazzi con i cuoricini oh oggi sarai elegantissima proprio vero? sì sì adesso stai al completo sì bellissima ma ti sei vista lo specchio quanto sei bella? no eh? che carina che bella oh guarda come si muove questo vestito mamma mia il suo vestito dei sogni sì è vero e finalmente l'ha indossato e adesso eh? manca solo che arrivino le tue amiche l'animazione ah ma nel frattempo che aspettiamo gli vogliamo far vedere quelle piccole decorazioni che non hanno visto che abbiamo fatto ieri? andiamo a fargliele vedere vieni allora guardate ragazzi abbiamo no lì queste le hanno viste sì abbiamo aggiunto queste cose abbiamo aggiunto questo che poi con queste qui ci faremo ci faremo ci faremo ci faremo come le farete le foto? con lo specchio così magari molto poi abbiamo ricreato un po' tema spa poi abbiamo fatto questo guardate qui ragazzi che abbiamo fatto anche da questa la bocca con i cetrioli con la cipolla anche qui e qua c'erano le candele col set e sugar money e il drink il drink mamma i regali che ho visto prima erano quello colorato quello e quelli vogliamo spoilerare qualcosa guardate qui ragazzi iniziano a starci tantissimi regali e c'è anche qualcosa lì dietro che adesso non si vede e devono arrivare anche gli altri è vero ma quanti regali scarterai oggi? tantissimi li metteremo tutti qua sotto eeeh è pieno per tutta casa per tutta casa per tutta casa sarà una casa piena di regali oggi siiii e niente quindi adesso manca solo che arriva l'animazione con le tue amichette si eh ma le accoglierai una a una? si le presentiamo ai nostri amici queste amichette? ehmhm ehm e allora ragazzi ecco le che stanno per arrivare eh ciao 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 barke lei si chiama Eva earr effettivamente è emozionata ciao Eva eccola un' altra venite buongiorno ben arrivata presenta la tua amichetta lei è chloe ciao chloe è arrivata taglia buongiorno taglia benvenuta ci sono tutte le altre amiche che ti aspetta e qui abbiamo un'altra amichetta che è arrivata stavo fracchierando azzurra ma siete emozionate ragazzi che tra un po' arrivano le animatrici siiii siete prontamente il trucco siiii ecco l'altra amichetta vi ho raggiunto ciao gioccio qua stiamo i modali qua tutti i battorni desi è arrivata l'animazione ma vogliamo far vedere come stanno apparecchiando la tavola è pronta guarda un po' adesso poi mamma qui vicino ci deve mettere delle cosette dei pensierini per ogni bimba guardate un po' ragazzi che cosa bella che stanno facendo guarda che bello guardate un po' stiamo mettendo la fatti mariana guardate un po' ragazzi che belle sono dei trucchi fatti con i pesla questa è la torta per le sire abbiamo questo smalto da trusse un'altra piccola trusse un rossetto per finire un altro rossetto sei pronta per iniziare? si ma siete pronti per iniziare? si come no come no sei pronta a mettere i cetrioli? si e allora dai desi diamo inizio alla festa accordo allora ok Ehi, ho preso il braccio! Ma chi è arrivata? Eh, adesso? Sì! Compreta! Ma che pezzo! 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 Vieni che bella pazzetta! Ma non mi rai più! Desi! Hai visto che so bella? Sottetta! Adesso siete tutte! Sì! Andiamo a fare una nuova di te! Sì! 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 Vediamo come sta a desire con questa marco! Guarda la maschera! Ci sporchiamo! Oh, bella! Wow, io sei bella! Vieni da Francesca! 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 Ecco, come siete belle! Iniziamo con lo yogurt, che è la base, ci serve per idratare il visino. Io ve ne metto un pochetto, e voi iniziate a girare con la stecchetta, vai... gira, 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 gira! Potete assaggiarlo? Sicuramente! Io non lo voglio... Assaggialo un po' dai! E' buono younger! E' buono amm? E' buono amm? Vai, mescoliamo Ma poi mi diventa la ragione Sì, quasi calda Ma non mi mangiare Mescoliamo Cacao Cacao Adesso non lo voglio più Adesso dobbiamo rimettere sul viso E dobbiamo sparire tutti i puntini Vediamo un po' Nessie Brava Nessie Brava E fra un po' mettiamo i C'è di I C'è di I Una testa appoggiata Sullo schienale della stella E la testa è rivolta verso il soffitto Cerca di mettere la testa in più altra posizione Grazie 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 Sì, è vero Ma che è vero Sì 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 Ma è stata una testa Sì 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 Allora Sì 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 Il buccio della sottolina Si che si è convintato Sirena, aspettiamo tutti i re Vai tutti nella sottolina Si che si è convintato Buongiorno Te come ti senti la pelle? liscia! liscia? veramente? allora ha fatto effetto, sei stata brava! noia com'è andata? bene! bene? si è rilassata abbastanza? adesso andiamo a fare una piccola merenda e poi inizia la seconda parte hai visto nel pass tempo che mangiavate? hai visto le animatrici che cosa hanno messo? si! eh? la connellina! per tutte le bimbe perché dopo ragazzi dovete sapere che queste signorine faranno una? filata! una sfilata! wow! sei una diva! scegli il braccialino di che colore lo vuoi? questo? questo è quello che si illumina! il braccialetto che si illumina esatto! cambi la manina! e voilà! ecco il nostro braccialino luminoso! adesso si finisce di colorare tutto quanto! senti ma com'è questa festa? ti sta piacendo? si! molto! molto! e adesso cosa dovete fare? non lo so! dovete mettere lo smalto! forse! forse! adesso vediamo eh! adesso vediamo cosa ci sono le animatrici! musica 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 facciamo vedere queste belle mani wow ma che bei colori hai scelto brava mamma ma ditemi un po vi sta piacendo questa festa siiii sono bravi queste animatrici siiii siete pronte tutti a fare la filata siiii no 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 bellissima e adesso iniziamo con lo scarto dei regali allora ci sono tutti i regali? si dicono che ce ne sono altri ce ne sono altri ancora? ma sono tantissimi quanti ce ne sono? sono proprio tanti ma che mi arrivano altri vediamo un po vediamo se sono tutti tanti sei curiosa eh? si molto ciao 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 facciamo un applauso a nonno è meraviglia ti piace? questo è proprio tu da principistina è meraviglioso e adesso grazie nonno grazie signorina allora com'è andata questa festa? benissimo sei stata bene ti sei divertita raccontami qualcosa veloce veloce ci siamo state divertite e ci siamo un gioco divertito questa spada ti è piaciuta? sì e tutto il resto? soprattutto perché ci siamo rilassate è vero? quel momento con i citrioli che vi siete messi là con la musica relax certo poi abbiamo ordinato la camera eh sì guardate ragazzi è tutto ordinato tutto perfetto adesso con queste bimbe facciamo la bella challenge che chi sistema più velocemente possibile guardate che faccia mi ha preso un colpo perfetto quindi amici vi abbiamo fatto vedere questa splendida festa di compleanno di Desiree e Desi come diciamo sempre speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto mettete un pollicione iscrivetevi al canale delle sorelle pazze e attivate la campanellina dindon dindon e lasciate molti commenti per gli auguri di Desiree e al prossimo video ciao 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 e tanti auguri ancora amore ciao siamo sempre con noi siamo sorelle siamo un figlio insieme cantiamo e balliamo siamo sorelle siamo un po' chi la musica nel cuore conteremo sempre con noi ciao 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 ciao